Prima Radio Buongiorno anche per la prima volta qui a Vittoria e a Edoardo Ciao ragazzi Sono i più giovani della vostra scuola Sì, diciamo che sono i più giovani della categoria del team Italia Quindi la prima categoria della nazionale Under 15 Under 15, 12, 13, 14 anni sarebbero Sono stati ad Atene, hanno disputato il mondiale, la World Cup E praticamente con che cosa sono tornati? Abbiamo fatto un argento e un bronzo Capito, fissaria, un argento e un bronzo Così detta così sembra Allora, prima di tornare a parlare con Cristian Ragazzi, andiamo subito su Edoardo Com'è stata questa avventura? Questa avventura è stata... Cioè... Ti è piaciuto? Ti è divertito? Sì, mi è piaciuta moltissimo, soprattutto per l'emozione che ho provato Eh, qual è stata l'emozione? Non te lo so predire Ecco, già basta Il cuore quanto batteva? Il cuore batteva velocissimo A mille Soprattutto quando mettevi il piede... Sul tatami? Sul tatami Eh, ho imparato i termini, vedi? Bravo, bravo Sto cominciando a impararci E scaricavi tutta la tua adrenalina? Sì, mentre combattevi ti rilassavi Ah, addirittura Hai trovato qualche osso duro? Sì Che ti ha dato filo da torce? Un russo Un russo Che è arrivato prima nonché nella mia categoria No, stavo per fare una battuta Gli hai detto al russo che noi sappiamo russare? Perché se veramente me la potevo risparmiare E Vittoria invece tu? Che tra l'altro, attenzione, Vittoria è medagliata Con medaglia? Bronze, un bronze Un bellissimo bronze Quindi abbiamo la vice-vice campionessa mondiale Vittoria, che... Come è stato per te? Pure emozionante Con chi hai vinto? Eh, ho fatto un combattimento con la Romania Sì Il primo l'ho perso Poi altri tre con le russe E ho vinto Ah, quindi praticamente Mi pare di capire che al suo mondiale tanti russi? Sì Sì, praticamente nell'under 15 È possibile schierare tre atleti per nazione La Russia che su questo sport Diciamo la fa da padrona Ha schierato tre atleti per ogni categoria Ha portato più di cento atleti in questo mondiale Nelle varie categorie C'è Da dire per esempio che Vittoria è campionessa europea in carica nell'under 15 Quindi adesso... Quindi si è riconfermata Riconfermata e adesso anche il titolo mondiale Diciamo il bronze nel campionato mondiale Gli altri invece, le altre categorie come è andata? Allora noi abbiamo altri tre ragazzi Che sono Andrea Volio che ha fatto anche lui quinto Poi abbiamo Nicolo Sciacca che ha fatto la medaglia d'argento Che non sono qua per impegni scolastici Certo E Federico Studer, un altro ragazzino che ha la sua prima esperienza a 12 anni È arrivato settimo però... Una categoria abbastanza... Posta? Sì, sono piccolini però credimi Il livello è molto molto alto Immagino, è un motivo di dubitare E invece per te che mondiale è stato? Che numero di competizione è stato? Non mi ricordo Hai perso il conto Cioè guarda, c'è i pass quelli del coach, no? L'altra volta volevo sistemarli A un certo punto ho detto No, no, lascia lì Lascia lì come sono? Un mazzone praticamente Sì, sì Diciamo che è dal 2009 che seguo la nazionale Non come coach ma come, diciamo, accompagnatore Poi nel 2010 sono diventato un atleta Della nazionale E quindi già sono otto anni Sì, nel 2012 sono diventato coach Nel grammatino ci sono alcuni ragazzi della Chiama Budo Club Jiu Jitsu Academy Tornati dal mondiale di Atene Questa è la medaglia che ha conquistato la nostra amica Vittoria Stavo per dire Veronica La nostra amica Vittoria Questa è la medaglia, vedete Il bronzo conquistato nella categoria Under 15 ad Atene 2018 La World Cup In Italia abbiamo campioni del mondo Comunque atleti che si sfidano E riescono a ottenere importanti soddisfazioni a livello mondiale Però certo, non è il calcio e quindi non conta niente È vero, Cristian? Purtroppo Purtroppo, sì È sempre uno sport minore Quindi viene ancora tenuto in scarsa considerazione Parliamo dell'imminente futuro Perché avete ora altri due mesi pure belli tosti Sì, sì Adesso siamo in preparazione per i campionati europei Under 18 e Under 21 Quindi la categoria superiore Che si svolgeranno al Bologna dal 25 ottobre al 29 E poi abbiamo, chiudiamo l'anno a novembre con i mondiali senior a Malmo in Svezia Abbiamo nove convocati della Chiama per gli Under 18 e gli Under 21 E sei convocati per la senior Diciamo che la nostra società è una fuscina da molto materiale E soprattutto, dico, gli atleti, ok Poi le medaglie che arrivano sono più importanti del numero di atleti che poi vanno in nazionale Sicuramente Però questo è anche significativo del fatto che c'è una preparazione C'è anche la consapevolezza in loro di svolgere una disciplina Praticare una disciplina sportiva con agonismo, con sacrificio Perché anche per le loro famiglie Attenzione, i viaggi all'estero se li pagano di tasca loro Non c'è uno sponsor purtroppo che li sovvenziona, che li aiuta Eh già, purtroppo diciamo che in questa fase sportiva Questa era sportiva, non so come definirla La crisi ha colpito le varie federazioni Tra cui la nostra che è anche neonata Quindi fondi pochissimi, aiuti pochissimi Sponsori come tu ben sai dalle varie volte che ci siamo visti Non ne parliamo Noi siamo sempre disponibili ad aiutarli Perché la visibilità che abbiamo è abbastanza grande E niente, cerchiamo di far sì che questi ragazzi Oltre alle medaglie, oltre alle competizioni Escano da un mondo che possa racchiuderli Come quello di stare con i telefonini Bravo Cerchiamo di farli uscire un po' Cerchiamo di farli crescere da uomini e donne Praticamente loro, è questo che dicevo l'altra volta Che alla loro età già sono consapevoli Delle attività che fanno Dei sacrifici che devono fare come il calo peso Quindi non potersi mangiare la nutella Per dirne una Oppure il fatto di doversi allenare tutti i giorni Due ore al giorno E già da quest'età loro sono consapevoli di questo Quindi c'è una motorità rispetto ai loro coetani Che non praticano attività sportiva Di gran lunga superiore Quindi questo è anche un invito in più A chi vuole iniziare a frequentare questo mondo Perché come avete sentito le parole di Christian Minuto Praticamente non c'è soltanto l'aspetto sportivo Ma c'è molto, anzi tanto lato umano Che può servire alla crescita di questi ragazzi L'abbiamo visto con quelli più grandi Che sono venuti nelle precedenti edizioni Durante la scorsa stagione del Gran Mattino Ma lo sto vedendo anche loro Perché veramente si stanno dimostrando Un ometto Edoardo E Vittorio è una signorina fantastica Allora rinnoviamo l'appello a chi ci sta ascoltando Se volete dare una mano a questi ragazzi Della Chiama Budoclub Sono a disposizione Anche perché ripeto Tornare a casa sempre con qualcosa di prestigioso e importante Quindi aiutarli significa essere anche Parte di questo successo Io in questo momento sto stringendo questa medaglia Lo dicevo poc'anzi a microfoni spenti Io non la vincerò mai in una medaglia sportiva Però in questo momento sto giuendo pure per loro Ragazzi complimenti per tutto Oggi scuola niente? Edoardo? No, scuola niente Scriviamo una giustificazione, scusami Motivi familiari non puoi Motivi sportivi nemmeno Te lo dico io Fai scrivere ai tuoi genitori La giustificazione Per rilascio interviste alla stampa La maestra stona Non ne capisce niente Dici, mia, questo è importante Hai capito? Complimenti per tutto Grazie e alla prossima Grazie, grazie a voi Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti